Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 8 maggio e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e poi su Fuzzimib. Allora, guardando i future, vedo che la partenza su DAX potrebbe essere di più 118 punti e su Fuzzimib di 120. Per cui, non soltanto il target dato nell'analisi ieri di un arrivo prima alla media mobile di nuovo al 200 periodi e poi il separamento è corretto, ma è vero che dobbiamo attendere ancora l'apertura. La direzione è verso la chiusura del gap down a 10.895. In questo momento staremmo aprendo a 10.865. Quindi, rispetto a quanto detto ieri, per ora tutto corretto e in linea, ma, come al solito, aspettiamo di poter un attimo capire come si muoverà. Cosa interessante? Quando abbiamo perso la media mobile a 50 che faceva da supporto, l'abbiamo recuperata, abbiamo fatto molta fatica e molta lateralizzazione, ma poi abbiamo rotto definitivamente, probabilmente con questa mattina, la media mobile a 200 periodi. A quel punto vedremo se seguirà anche in giornata la media mobile a 50 che salirà più rapidamente e che quindi potrebbe portarci eventualmente in Golden Cross. A questo punto, la direzione penso che sia chiara. Per quanto riguarda la centratura, bisognerà ancora capire se qui c'è stato appunto un 3 tempi, 1, 2, 3, oppure un 2. Sarà abbastanza semplice capirlo. Se qui continueremo a salire dopo il 4t-3, appunto, avremo una discesa per almeno un t-4, ovvero 3 ore, avremo che qui sarà stato un 2 tempi e successivamente avremo avuto il secondo 2 tempi. Qui non si sarà appunto chiuso il primo t-1, ma si chiuderà dopo la partenza del 4t-3. Al termine del 4t-3 stesso, appunto, con un sottociclo di 3 gradi inferiori. Andiamo a vedere se tutto torna anche a livello di candele giornaliere. Ho aggiornato tutte le durate, per cui sono già tutte a ieri. E tutto però torna. Questo vi direbbe, vi dovrebbe dire, peraltro, un'altra cosa interessante. Che cosa? Che se qui è partito un nuovo t-2 inverso, un nuovo mensile inverso che è arrivato solo a 13 giorni, da questo massimo, si è vincolato al ribasso, se il primo t settimanale, dopo aver lanciato il t più 1 inverso, sempre tutto inverso, si vincola al ribasso, gli altri, come fanno ad essere vincolati a rialzo? Non possono, sono tutti vincolati a ribasso, e quindi a rialzo di indice, ribasso di inverso, rialzo di indice, come di consueto. Per cui, qual è il target naturale di questo movimento? Non soltanto per quanto riguarda il secondo t più t inverso, il secondo settimanale inverso è arrivato a 1, 2, 3, 4, 5 giorni, ma anche del secondo t appartenente al secondo t più 1 di questo mensile. Il movimento naturale è prima arrivare come target a 11.023, successivamente andare sopra il massimo fatto a 11.235 punti. Chiaro cosa mi aspetto per il DAX per i prossimi giorni? Attenzione, oggi è venerdì, regola del venerdì, se volete eventualmente rimanere in overnight, ricordatevi sempre che comunque si rischia di rimanere incastrati se non si parte bene con un buon prezzo di carico prima di un'eventuale chiusura di t-1, quindi privilegiate eventualmente il pomeriggio. Attenzione, appunto, però che è venerdì, quindi non si aprono posizioni di breve nel pomeriggio e ricordatevi che il overnight è sempre più rischioso, ma in questo caso, tenendo conto di questa centratura, ci si può fare un pensiero con i dovuti stop loss, che non sono quelli dell'intraday. Passiamo al fuzzimib. Per quanto riguarda il fuzzimib, la situazione, come detto, è un po' diversa, nel senso che questo probabile nuovo di settimanale, facciamo che metta a questo punto, ha pochissima forza. Adesso avremo un'apertura più in alto, come detto, possibilmente, se verranno confermati i future, a 17.367, 367 dovremmo essere qua, boocheremo probabilmente la media mobile a 50 periodi, primo target da verificare se riusciremo a farlo, 17.461 circa, ovvero dove passerà la media mobile, che sta abbassando comunque, andando verso il basso. Bisognerà vedere che reazione avrà l'altra, ma la tendenza potrebbe essere quella di provare a sparare verso l'alto per lanciare il secondo t-1, perché qui è molto più evidente che siamo a 1, 2, 3, e da qui, se non si violerà, appunto, il minimo a 17.093, che farà partire probabilmente il quarto t-3, col quarto t-3 coinciderà la partenza del secondo t-1. Per cui, anche qui, dovremmo avere rialzo per tutta la giornata, per una buona parte della giornata, poi attenzione, perché le posizioni in overnight sono un pochino più rischiose, ma, anzi, soprattutto su un indice come l'italiano, che sta dimostrando una forza relativa bassissima, per cui privilegiate eventualmente il DAX per le operazioni di questo tipo. Qui, peraltro, abbiamo da capire se si riuscirà a superare la media mobile a 50 periodi in rosso, il livello inferiore della KUMO. Siamo non particolarmente ben messi, anche perché l'indicatore MACD, se il trigger incrocerà la linea rossa, ci dirà che rischiamo di andare di nuovo a sul basso, e quindi si rischierà di dover capire che cos'è questo movimento che si staccherà da quello che invece stiamo vedendo per ora su DAX. Vi ringrazio per l'ascolto, e se l'analisi vi è piaciuta mettete un like, sottoscrivete il canale, cliccate sulla campanella se volete essere avvisati appena il video viene caricato ed è disponibile su internet. Sarà una splendida giornata. Preparatevi a rivederci.